Il Carnevale di Fano arriva anche al Centro Commerciale Sant'Orso per il secondo anno consecutivo, Valori. Esatto, secondo anno consecutivo, grazie poi all'iniziativa, alla collaborazione della scuola Filippo Montesi, sempre attiva con i propri bambini, e alla collaborazione del Centro Commerciale, naturalmente, di tante altre organizzazioni di quartiere che tutte insieme ci siamo unite per portare avanti questo progetto che è cominciato l'anno scorso, che ha avuto un buon riscontro, abbiamo detto facciamo divertire i bambini anche quest'anno. Tante saranno le attività, giochi, laboratori, addirittura un piccolo premio? Ma, piccolo, direi anche importante, premio da parte della carnevalesca, ma offerto da una parte dei commercianti del Centro Commerciale. Noi premieremo il gruppo mascherato, più simpatico, più bello, come dir si voglia, con due palchi al Carnevale del 24. A che ora inizierà la festa? Allora, la festa comincerà alle 15, che poi si porterà per il pomeriggio fino a notte, che arriverà, perciò immagino verso le 18, e ci saranno animazioni per tutti i bambini, ci saranno laboratori, ci sarà tanta musica, tanti balli, un bel pomeriggio intenso, inoltre questa sfilata delle scuole, dei gruppi mascherati. E' anche un ospite d'onore, che poi chi verrà lo scoprirà comunque, è un ragazzo che ha avuto anche a che fare con un concorso nazionale. E nell'ambito sempre dell'iniziativa rientra un altro progetto denominato Animali di Quartiere, di cosa si tratta? Sì, esattamente, Animali di Quartiere, il primo appuntamento del progetto che viene portato avanti nel quartiere stesso, sarà proprio in avanti alla nostra festa. Nel centro commerciale ci saranno gli artisti Nicola, Alessandrini e Lisa Gelli, che insieme ai bambini realizzeranno delle maschere di animali fantastici. Presidente, un carnevale di tutta la città che coinvolge anche i vari quartieri? Assolutamente sì, quest'anno con le fazioni che si sono unite al carnevale di Fano con grande entusiasmo, ci sarà questa grande festa per bambini e non solo. Ovviamente questo mi fa tanto piacere, piano piano magari riusciremo a portare questa nuova tradizione anche negli altri quartieri, sarebbe molto bello. Ci sarà un getto di caramelle per i bambini e ci saranno tante mascherate che poi rivedremo anche domenica, quindi vi aspettiamo sabato a Sant'Orso, domenica al carnevale e grazie a Piero per questa sua iniziativa.